La bottega Bufa Circo Vacanti nasce nel 2010 da un collattivo di artisti provenienti da varie formazioni e anche da diverse parti d'Italia e del mondo. La nostra impronta è collegata al teatro popolare, in particolar modo quello gestuale e fisico della commedia dell'arte, ma per noi rimane una scuola che ci fa da base poi per entrare anche nel mondo della sperimentazione e della ricerca. Proprio in questo lavoro che presentiamo ci spostiamo totalmente dal lavoro della maschera per assorbirlo e farne più un lavoro appunto di sperimentazione sulla voce in questo caso e sulla musica. Maria Stuarda al momento è uno studio e è una lettura a partire dal testo di Daccia Maraini, appunto Maria Stuarda. Nasce però dopo un evento successo nel 2018, cioè l'assassinio dell'attivista politica Maria Liefranco. Questo è stato il nodo purtroppo di ispirazione per ragionare sulla donna e il potere, la donna in relazione al potere e il suo contrario. Il concetto alla base è la donna come corpo politico, una donna come Marielli che era nera, favelada, cioè proveniente dalla favela, rappresenta su di sé, anche per essere donna, tutta una serie di diritti ancora negati e in questo il suo corpo appunto ne diventa un corpo politico. Tante donne si vedono i diritti negati, tante persone nere o di religioni diverse dalla regione dominante diventano vittime di razzismo o ingiustizia sociale. Così succede anche se ci spostiamo appunto nel testo della Daccia Maraini, proprio Elisabetta e Maria Stuarda, quindi due regine, due donne che sicuramente sono a una carica politica molto alta, hanno dei problemi in quanto donne, dei problemi in relazione al potere e anche i loro corpi in questo caso diventano dei corpi politici. Questo progetto appunto ancora in forma di studio l'abbiamo presentata al bando di circuitazione delle compagnie regionali, proprio come studio, con l'intenzione di incontrare sul palcoscenico anche le altre, le diverse compagnie che lavorano sul territorio regionale. Purtroppo a causa delle condizioni sanitari che ancora ci troviamo ad affrontare non è stato possibile questo incontro a tu per tu sul palcoscenico. abbiamo trovato un'alternativa nella registrazione di queste dirette, no dirette registrazioni streaming che in questo momento consentono comunque a noi di lavorare e questo è molto importante perché poter comunque essere su un palcoscenico per noi lavoratori e lavoratrici dello spettacolo è importante, ci manca il pubblico, questo sicuramente, ma spero sia godibile anche da casa.